Ciao a tutti, sono Miki e benvenuti a Chupacabra Outdoor! Slamare i tuoi smartphone sul lato non è mai divertente, beh, a meno che hai la macchina di macchina di Magpul. Sottotitoli, ho avuto scoperto di macchina di macchina per un paio di anni e hanno aumentato drasticamente la lunghezza dei miei dispositivi, che ho usato per, letteralmente, distruggere in un paio di mesi. La macchina di macchina di Magpul è una coperta di semi rigida, fatta con termoplastico flessibile, designata per proporzionare protezione basica nel campo o in ogni tipo di attività, non il profilo più basso, ma sicuramente l'obiettivo che ho provato, nato e nato negli Stati Uniti, con qualità di qualità di build. Sono disponibili solo per i iPhone o Samsung Galaxy, e si vendono per meno di 20$. È abbastanza facile di trovare e vi farò alcuni link nella descrizione sotto. Sottotitoli si scoprono molto facilmente, e le p-meg stile rib, aumentano l'attività in e out of pockets. Non è necessario di dire che il mio smartphone è sempre in questo caso durante le mie attività di attività, sia in pochetti o in fanny packs. Si scoprono solo le braccia e le mani del dispositivo, ma è letteralmente impossibile di rompere la screen se si scoprono o si scoprono su superfici flessibili, perché delle occhie riposate. L'unica modo per rompere questa screen è da avere il telefono per ammigliare rocci o obiettivi. Sono molto piaciuto di come mi ha servito il telefono durante i anni, anche se c'è un po' di perdita qualità nella trasmissione di voce, e a volte ho dovuto uscire la coperta per essere sentita bene. Quindi, questo è il mio solo complesso, credo. Ci sono i porti di telefono e i porti di cibo, quindi è sicuramente non un porto di acqua, ma invece un porto di acqua. Si scoprono e dà anche il tuo smartphone l'occhio tactico che tutti amiamo. Ok ragazzi, grazie per la visione, vediamo presto per la prossima! Cuore e stai sicuro qui!